1954, un concorso per creare un monumento dedicato a tutti i caduti delle guerre, viene vinto da un artista umbro che si chiama Leoncillo Leonardi. Nella giuria, ricordiamoci, abbiamo Giulio Carlo Argan, grandissimo storico d'arte, e Tullio d'Albisola, il fondatore della Casa Mazzotti di ceramiche, mentore e promotore della cultura artistica albisolese. Leoncillo Leonardi qui esprime tutta la drammaticità dell'impotenza delle persone, dei civili, delle famiglie comuni contro l'invasione nazista, contro la guerra e contro la violenza fascista.